Buonasera ben ritrovati ad un nuovo spazio dedicato all'informazione dal Veneto il territorio ha deciso in questa fase di non fare più il vaccino AstraZeneca sotto i 60 anni ad annunciarlo il presidente della regione Veneto Luca Zaia per i richiami il ministero ha chiarito che sono AstraZeneca su AstraZeneca dice Zaia a prescindere dall'età perché chi lo ha già fatto vuol dire che non ha avuto problemi per coloro sopra i 60 anni si fa a meno di prescrizione contraria del medico ieri ha proseguito il presidente è stata una giornata un po' concitata abbiamo già fatto la circolare il call center ha ricevuto numerose chiamate più di 8 mila per ricevere informazioni sulla gestione di questa vicenda Zaia è stato critico verso l'agenzia europea del farmaco dicendo abbiamo capito che l'EMA quando c'è brutto tempo evita di uscire di casa EMA ha detto agli stati di decidere bello questo sistema afferma il presidente poi ne viene fuori una raccomandazione di utilizzare il vaccino sopra i 60 anni ma la parola raccomandazione spiega Zaia non vuol dire obbligatorietà a non usarlo sotto i 60 anni ed ora diamo uno sguardo ai numeri riportati dal bollettino della regione Veneto sui casi di covid delle ultime 24 ore i nuovi contagiati sono 1241 24 le persone che hanno perso la vita in discesa il numero totale degli attuali positivi 34 139 i pazienti covid ricoverati sono complessivamente 2268 in questo momento l'indice r con t è sceso e si trova a 0.96 e adesso parliamo di un incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la a4 dove un uomo purtroppo ha perso la vita il conducente di un mezzo pesante ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto in a4 dopo le 8 e 30 con direzione venezia poco prima del casello di porto gruaro si è verificato un tamponamento tra mezzi pesanti i pompieri arrivati da porto gruaro e la tisana hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente rimasto bloccato nella cabina di guida il personale sanitario del suo e ma intervenuto anche con lei l'ambulanza ha provato a rianimare l'uomo purtroppo il medico ha dovuto dichiararne la morte illeso l'altro autista durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato sul posto la polstrada e personale ausiliario dell'autostrada parliamo di una tragedia il suo corpo è stato trovato questa mattina da ieri erano in corso le ricerche di ferruccio svaluto moreolo una guida alpina e presidente del gruppo rocciatori ragni di pieve di cadore purtroppo è stato trovato senza vita stamane l'uomo era disperso dalla serata di ieri l'allarme era scattato dopo che non era rientrato da un'escursione sci alpinistica verso le 20 e 30 di ieri la stazione del soccorso alpino del centro cadore di cui svaluto faceva parte era stata allertata era partito un grande spiegamento di uomini e mezzi e purtroppo questa mattina la tragica scoperta a terra a padova accordo con il comune tra super bonus 110 per cento e qualità dell'abitare sono in preventivo lavori per 100 milioni di euro per rilanciare l'edilizia residenziale pubblica in città sentiamo che cosa vuol dire super bonus 110 per cento e programma qualità dell'abitare la sinergia tra atere comune di padova permetterà di avviare in città lavori per un controvalore economico di circa 100 milioni di euro al progetto di riqualificazione immobiliare e sociale si aggiunge anche un intervento che garantirà minori consumi e di conseguenza una maggiore tutela dell'ambiente saranno 1473 gli alloggi di proprietà atere interessati dai lavori di efficientamento energetico grazie al super bonus 110 per cento l'operazione oltre ai benefici in termini di riduzione delle emissioni permetterà agli inquilini di avere consistenti sconti in bolletta sono invece 64 gli alloggi che verranno sistemati grazie al progetto qualità dell'abitare le 64 abitazioni interessate dalla ristrutturazione si trovano in via cabrini e in via cardinal callegari inoltre è stata rinnovata la convenzione tra comune di padova e atar per quanto riguarda i lavori di manutenzione negli alloggi di proprietà dell'amministrazione nel primo trimestre del 2021 gli interventi svolti sono stati 120 clima rigido in veneto temperature sotto lo zero la scorsa notte anche in molte località di pianura per la coda invernale del dopo pasqua prevista per l'arrivo di questo flusso di aria polare che si è fatta decisamente sentire le temperature sono state registrate dall'arpav che ha comunicato la discesa sotto lo zero nella mattina di oggi nelle zone montane il record è stato raggiunto da araba nel bellunese con meno 8.7 gradi questa mattina alle 9.35 squadre dei vigili del fuoco di verona sono intervenute in via mameli in città per un incendio che ha coinvolto due automobili sono stati momenti di paura perché il fuoco ha provocato anche danni agli edifici vicino guardate l'incendio di due automobili a verona ha provocato momenti di tensione in via mameli verso le 9.30 si è incendiata una macchina parcheggiata davanti a un'abitazione in pochi istanti il fuoco ha intaccato e travolto anche un'altra auto parcheggiata vicino a causa dell'incendio il fumo è entrato nell'edificio adiacente saturandolo i pompieri giunti con sette uomini hanno spento il rogo e successivamente hanno provveduto a effettuare una verifica nel vano scale del civico 138 due persone sono state accompagnate all'esterno degli appartamenti per bonificare i locali controllate anche due attività commerciali adiacenti che hanno subito danni alle vetrate durante tutte le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza la via è rimasta chiusa al traffico alle 6.30 di questa mattina sono intervenuti i vigili del fuoco in via Baiardi a Padova per un principio di incendio avvenuto all'interno delle ex scuole elementari i pompieri sono accorsi hanno spento le fiamme di coperte e cartoni utilizzate da persone senza tetto che la notte trovano alloggio dentro l'edificio sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della struttura sono durate un'ora e mezza circa e adesso parliamo di una iniziativa davvero molto bella che riguarda il territorio di Padova e la sua provincia pedalando si impara una guida e un portale web per conoscere il patrimonio culturale della provincia di Padova in bicicletta sentiamo valorizzare il patrimonio culturale di Padova e del territorio padovano attraverso le piste ciclabili è questo l'obiettivo della nuova guida pedalando si impara e del portale web cicloculturando.it frutto di una convenzione tra la provincia e l'università di Padova l'iniziativa è nata dal progetto presentato a un'impresa 2018 percorsi di cultura conoscenza e valorizzazione del patrimonio della provincia di Padova il progetto è nato dalla volontà di far conoscere e valorizzare la ricchezza naturalistica e culturale dei 102 comuni padovani attraverso le ciclovie non si tratta dunque di una guida storica archeologica o artistica e neppure di un opuscolo meramente tecnico dei percorsi esistenti si tratta di un modo per far entrare il patrimonio culturale nell'esperienza di vita quotidiana dei cittadini e dei turisti proprio grazie a una delle modalità di fruizione del territorio più diffuse e amate come quella del cicloturismo le collaborazioni le collaborazioni istituzionali che fanno presentano questa provincia presentano le straordinarietà e le eccellenze di questa provincia dalle eccellenze enogastronomiche a quelle culturali alle eccellenze economiche le grandi imprese che qui insistono le grandi storie imprenditoriali che qui insistono racchiuse in una guida una guida che percorre i grandi piste ciclabili che sono insite in questo territorio questo territorio che è primo in italia per numero di chilometri di piste ciclabili che attraversano i nostri 102 comuni e 102 comuni che diversamente verrebbero magari visitati ecco che si aprono soprattutto per i comuni più piccoli nuove opportunità nuova vocazione la vocazione turistica dove si possono presentare le eccellenze le eccellenze di questo territorio ecco perché università e provincia con questa guida stanno mettendo a sistema la grande bellezza di questo territorio ed ora uno sguardo alle condizioni climatiche in queste giornate le temperature dovrebbero leggermente salire rispetto insomma a quello che è stato registrato nelle ultime giornate dove l'aria è stata decisamente polare in particolare durante la notte e tutto questo sarà portatore di sole per la giornata di domani ma da sabato è già in agguato una nuova perturbazione che potrebbe portare piogge ma anche un nuovo abbassamento delle temperature è tutto per questa edizione tra poco l'appuntamento è con it al press 24 le notizie nazionali io vi auguro un buon proseguimento sulla nostra rete all'assoluti l'ambiente